Sony sgancia una bomba incredibile sul mondo della fotografia, Alpha 9 III. Nel corso di questo video andremo a vedere un po' delle specs e delle cose strabilianti che sono state introdotte. Vi consiglio di seguire questo video fino alla fine perché terrò per ultima la cosa più bella di questo nuovo corpo macchina. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e quindi non posso rimanere indifferente di fronte alla notizia della nuova Sony Alpha 9 III. Una fotocamera di cui si era già parlato, molti stavano lavorando su un qualcosa del genere. Sony, come spesso accade, è la prima a riuscire a buttare fuori un corpo macchina con un sensore full frame global shutter. Questo che cosa significa? Un sensore global shutter è un qualcosa di assolutamente rivoluzionario. Nel corso di ormai anni di storia della fotografia digitale noi abbiamo sempre utilizzato sensori con il rolling shutter. Questo che cosa significa? Vedete quest'immagine? Nel momento in cui quest'immagine viene catturata, il mio sensore sta catturando riga per riga. Per cui parte dalla riga superiore, cattura la prima riga, una volta che ha finito cattura la seconda e così via. È molto veloce, noi non ce ne accorgiamo neanche, però lo sta facendo in questo modo. Questo significa che in alcuni contesti possiamo avere dei problemi. È il caso, per esempio, delle carrellate video in cui vediamo che l'immagine si scionfa tutta e si allunga. Questo dipende dal fatto che la prima riga viene catturata in un modo, poi noi ci spostiamo e la seconda riga viene catturata lievemente spostata e così via e così via. E quindi vediamo le righe che si piegano nei nostri video quando facciamo una carrellata. Oppure possiamo avere problemi di altro tipo legati all'utilizzo dei flash e tante altre cose. Tutti questi problemi vengono completamente bypassati da questo nuovo tipo di sensore che, mi auguro, vedremo presto a cascata anche su tanti altri modelli, non solo di Sony, perché poi lo sappiamo benissimo. Quando qualcuno se ne viene fuori con una trovata sensazionale, gli altri competitor gliela copiano immediatamente perché altrimenti rimarrebbero indietro. Quindi Sony apre la strada, ma sicuramente ne vedremo delle belle nei prossimi mesi. Stiamo parlando di un bel sensore da 24.6 megapixel, quindi questo per me è apprezzabile perché 24 è un po' il mio sweet spot. A me non piacciono i sensori da 20, non mi fanno impazzire i sensori da più di 30 megapixel. 24 è un ottimo spot per un sensore di tutto rispetto. Abbiamo ovviamente a disposizione un sensore di ultima generazione perché su un corpo del genere vuoi non mettere tutto quello che hai, per cui avremo otto volte la velocità di processazione a cui eravamo precedentemente abituati, il che ci consente su questa macchina di catturare fino a 120 frame al secondo di raffica continua. Capite che è una cosa... cioè è inverosimile, è incredibile una cosa del genere. Praticamente stiamo catturando le nostre fotografie come se fosse un video da 120 frame al secondo. Praticamente diventa impossibile perdersi un attimo decisivo perché basta tenere premuto lo shutter e stai facendo un film. ad altissima velocità, dopodiché puoi selezionare le fotografie che sono venute bene da questo film e saranno in qualità RAW e avrai tutte le informazioni che vuoi per fare la tua post-produzione. Questa è una cosa dal punto di vista tecnologico bellissima. Dal punto di vista della fotografia io non so se mi piace tanto una cosa del genere perché una volta era compito del fotografo selezionare l'attimo ed era una skill che tu dovevi avere, quella di saper cogliere l'attimo, così questa skill viene completamente bypassata e chiunque sarà in grado di tenere premuto il bottone per 90 minuti di fila e poi scegliere i frame migliori. Lì stai annullando una delle skill del fotografo per come la vedo io. A molti altri che magari fanno sport o wildlife magari questa cosa serve. Questa è solamente la mia impressione. Un ulteriore upgrade è il pre-capture, ovvero che cosa fa questa macchina? Praticamente nel momento in cui noi la accendiamo lei sta già memorizzando cose. Sta immagazzinando fotografia a una velocità pazzesca. Nel momento in cui noi premiamo l'otturatore la macchina comincia a registrare, ma comincia a registrare da alcuni secondi prima che noi abbiamo premuto. Quindi normalmente la macchina sta immagazzinando una serie di immagini ad altissima velocità e man mano le cancella. Quando noi premiamo lo shutter smette di cancellarle e ci fa vedere dal momento in cui abbiamo premuto in avanti ma anche all'indietro. Quindi se stiamo seguendo una scena e ci siamo persi un momento decisivo così non ce lo siamo più perso. Perché, avete presente la scena, diciamo una bella cosa, tiro su, comincio a scattare, cavolo è già troppo tardi, il momento è già passato. Invece no, questa macchina ha registrato alcuni secondi prima. Quindi ha registrato dal momento in cui avevamo la macchina abbassata ha registrato tutto il momento in cui la sollevavamo e stava già registrando nel momento in cui cominciavamo a scattare. Diventa sempre più difficile perdersi degli attimi decisivi con una strumentazione di questo tipo perché fa da sola. Non dipende più da noi, è automatico, non ce lo fa pesare perché non scrive queste informazioni. Vengono memorizzate internamente in RAM, passatemi il termine, e poi vengono cancellate via via. Ma così diventa impossibile perdersi degli attimi decisivi. Sicuramente per chi fa sport o per chi fa natura è tantissima roba un sistema di questo tipo. Abbiamo poi a disposizione un bottone custom che è posizionato sul frontale del grip. Quindi nel momento in cui stiamo scattando possiamo premere questo bottone custom che va ad aumentare la velocità di raffica e noi su questa macchina abbiamo la possibilità di scattare con uno shutter massimo di un ottanta millesimo di secondo. Ora, io faccio fatica a immaginarmi un otto millesimo di secondo. Io faccio fatica a immaginarmi anche un millesimo di secondo. Sono una persona un po' limitata. Voi riuscite a immaginarvi quanto sia veloce un ottanta millesimo di secondo? Francamente credo che sia una cosa che sfuggia la comprensione umana. Comunque questa è la velocità che è in grado di raggiungere questa macchina. E attenzione, la cosa che personalmente ho trovato più bella di questa macchina perché al di là di quanto detto finora è rivoluzionario certo ma tutte le cose dette finora magari a me personalmente interessano relativamente. La cosa che mi ha veramente fatto cascare la mandibola per terra è che questa macchina chiaramente per il tipo di sensore che ha sincronizza con i flash a tutte le velocità di shutter. Quindi noi non dobbiamo più, per chi scatta col flash sapete benissimo che abbiamo delle velocità di sincronizzazione. Quindi non possiamo magari scattare alla velocità massima del nostro otturatore quando stiamo lavorando con il flash. Dobbiamo fermarci a un duecentesimo di secondo perché i flash funzionano così e si sincronizzano con il nostro tipo di sensore. È vero che esistono i flash con lo high speed sync che magari ti permettono di andare oltre però non tutti e comunque bisogna vedere le compatibilità. Ebbene con questa nuova macchina noi non abbiamo più questo problema. Noi possiamo scegliere la nostra velocità di otturazione indipendentemente dal fatto di stare usando un flash. Quindi possiamo scattare con la velocità che vogliamo. Questo è veramente mind-blowing. Quindi è veramente esplosa la testa perché questo apre a una serie di possibilità creative senza precedenti nella fotografia con il flash che è una cosa che a me piace molto perché io scatto ogni volta che posso con il flash. Ogni volta che posso utilizzare il flash se posso scegliere di usarlo o no scelgo di utilizzarlo. Quindi per me questa cosa è bellissima. Senza contare ovviamente che avremo finalmente la possibilità di scattare senza flickering. Quindi l'effetto flickering scordatevelo non ci sarà mai più perché su un sensore di questo tipo potremo fare tutto quello che vogliamo e non avremo più disturbi dovuti alla luce elettrica. Due paroline anche su altre feature della macchina che ho trovato comunque interessanti. Abbiamo un sistema di autofocus con il riconoscimento real-time. sostanzialmente riconosce le persone, gli animali probabilmente i veicoli, gli aeroplani riconosce qualsiasi cosa ma soprattutto in real-time capisce se deve mettere a fuoco l'occhio se deve mettere a fuoco un gruppo di persone se deve mettere a fuoco parti del corpo. È un sistema di messa a fuoco sicuramente rivoluzionario perché di nuovo sostituisce il fotografo. Quindi una volta stava al talento di chi imbracciava la fotocamera decidere dove mettere a fuoco e guardate che non esistono le mirrorless dall'alba dei tempi. La fotografia una volta si faceva a mano per cui una volta il fotografo bravo aveva la skill di mettere a fuoco a mano e la foto la faceva. Oggi con questo sistema pensa a tutto la macchina quindi dal punto di vista meramente tecnologico è una figata, niente da dire e rende più facile la vita a operatori che sono già capaci di fare quella roba lì. Se un operatore è bravo e a mano libera se la cavava con questo sistema può mettersi in panciolle e non fa più fatica perché ci pensa la macchina. Quindi figo. Per tutti quelli che cominciano oggi che prendono in mano oggi la loro prima macchina fotografica per me è sempre un po' un peccato perché tutte queste persone non impareranno mai a fare fotografie senza quel meccanismo impareranno solo con quel meccanismo e quindi gran parte di quelle che erano le skill di un fotografo di una volta non le apprenderanno più andranno completamente perse nella storia della fotografia. Questo a me dispiace senza nulla togliere che dal punto di vista tecnologico tutto bellissimo. Stabilizzazione. Anche qui abbiamo qualcosa di molto interessante perché combinando la stabilizzazione sul corpo macchina con la stabilizzazione sull'eventuale ottica munita di stabilizzazione arriviamo a otto stop abbiamo otto stop di stabilizzazione quando teniamo la fotocamera a mano libera. Notevole ragazzi io avevo visto finora sette stop massimo quindi abbiamo uno in più. Capite che a questo punto non mi stupirei se si potesse fare una posa di tre secondi a mano libera che è tanta roba cioè possiamo fare un car trail a mano libera. lo farò mai in vita mia assolutamente no però sapere di poterlo fare è comunque bello perché magari se in difficoltà ti capita un qualcosa che non avevi preventivato lo puoi utilizzare. Sono comunque belle cose dal punto di vista tecnologico francamente sono abbastanza curioso di provare una strumentazione del genere vedremo perché comunque è stata annunciata non prima del 2024. Un'altra cosa che ho trovato abbastanza interessante è il composite sui file RAW che cosa significa questo? Quando noi andiamo a scattare una fotografia è possibile che ci sia del rumore magari per le impostazioni che abbiamo dovuto utilizzare non siamo riusciti a tenere gli isobassi non riusciamo a tenere gli isobassi e quindi abbiamo un po' di rumore. Abbiamo la possibilità con questa macchina di scattare più fotografie componendo queste fotografie la macchina va a miscelarle per eliminare automaticamente il rumore dovete sapere che il rumore quindi digital noise sono quei puntini chiamiamoli così quella grana che va a sporcare le nostre immagini ma il rumore è una cosa variabile quindi è difficile che sia sempre uguale scattando più immagini noi avevamo già la possibilità di farlo in Photoshop è una cosa che io conosco già questa noi se facciamo tante fotografie della stessa identica scena e poi le sommiamo in Photoshop con un algoritmo particolare possiamo andare a dirgli di eliminare le differenze tra le varie immagini che abbiamo scattato quindi siccome il digital noise non si trova sempre nello stesso punto ma è variabile l'immagine sarà sempre la stessa il digital noise che è l'unica cosa che cambia viene eliminato quasi totalmente con questa macchina abbiamo la possibilità di farlo in camera e sul RAW cosa che prima almeno che io sappia non era possibile è molto interessante questa cosa ovviamente con soggetti in movimento sarà difficile da fare bisogna vedere come performa però su still life paesaggio foto notturna astrofotografia probabilmente credo che sia possibile farlo il che è molto interessante parliamo un attimino di video perché qui secondo me ne vale la pena abbiamo il 4k a 120 frame al secondo senza crop ragazzi 4k a 120 frame al secondo senza crop è follia è follia qualcuno lo userà io voglio vedere se qualcuno ha il coraggio di dirmi nei commenti che userà il 4k a 120 frame al secondo io no cioè lo userei per provarlo però poi avrei paura perché immagazzinare dei file di quelle dimensioni mi spaventa davvero però tantissima roba essere riusciti a farlo ovviamente abbiamo il riconoscimento dell'autofocus in real time anche sul video quindi tutto quello che è già detto vale anche per il video ci sono certi modelli che poi quando fai video a 4k l'autofocus non funziona più invece qui funziona e come ovviamente abbiamo l'S-Log 3 quindi abbiamo la possibilità di girare con il log di Sony a 10 bit 422 ma questo ormai è uno standard lo fanno tutti quindi da questo punto di vista non mi sorprende assolutamente comunque bravi perché tenere questo standard sul 4k a 120 tantissima roba compensazione del focus breathing questa è una cosa interessante quando andiamo a mettere a fuoco magari con una bella ottica prime o con un'apertura importante vediamo che a volte c'è un po' di zoom quindi nel momento in cui noi andiamo a cambiare il punto di messa a fuoco si spostano le cose questo può essere sgradevole hanno messo una compensazione se ho capito bene in macchina una cosa non essenziale però apprezzabile diciamo due paroline anche sulla costruzione di questo corpo macchina perché ovviamente quando fai uscire una novità così non è che dici abbiamo il sensore rivoluzionario la cosa più figa successa negli ultimi dieci anni di fotografia digitale lo mettiamo su un corpo qualunque no lo mettiamo su un corpo top di gamma per cui abbiamo ovviamente tropicalizzazione resistenza polvere umidità ovviamente abbiamo una bella costruzione corpo macchina costruito con le migliori componenti possibili una cosa molto bella che ho visto è il multi angle LCD ovvero questo schermino tiltabile che ha un doppio passo perché noi possiamo utilizzarlo come un vari angle ma anche tiltarlo e queste due cose possono anche essere combinate quindi a me non piace questo tipo di componentistica ok non mi piace perché è la parte più fragile di tutta la macchina se mentre lo stiamo utilizzando aperto prende un colpo ci siamo giocati la macchina quindi da questo punto di vista a me quel tipo di componente non piace però devo anche dire che questo è probabilmente il monitor LCD più avanzato che io abbia mai visto su una macchina di questa fascia quindi la possibilità di usare il multi angle e di tiltarlo e di fare le due cose combinate lo rende veramente l'LCD più versatile che io abbia mai visto quindi non me la sento di dire che sia un cattivo lavoro poi se lo rompi è colpa tua non è colpa di chi l'ha costruita amanti del doppio card slot noi qui abbiamo un doppio card slot e di tutto rispetto anche perché e questa è una cosa su cui Sony a me è sempre piaciuta tantissimo abbiamo la possibilità di usare le CF Express o le SD card quindi abbiamo due slot che prendono entrambe le memory card e questa è una genialata perché mi dai la possibilità di utilizzare sia le SD sia le Compact Flash Express quindi ho la possibilità di scegliere che memory card devo usare anche in base a quello che devo fare perché poi non ho ancora visto in profondità ma è probabile che il 4K a 120 frame al secondo sulla SD non si riesca a fare anzi è probabile che serva una memoria SSD esterna poi lo vedremo questo lo vedremo però per il momento avere la possibilità di scegliere quale memory card usare è tantissima roba bene amici ma vi avevo promesso una chicca alla fine del video e per quelli che sono arrivati con me fino a questo punto ogni promessa è debito la cosa più figa che è stata annunciata da Sony riguardo alla Sony Alpha 9 III è il packaging il packaging plastic free fatto interamente con componenti riciclabili ora potete mandarmi a quel paese scherzi a parte amici ho fatto questo video di corsa perché ho dovuto seguire la notizia e quindi l'annuncio è stato fatto in queste ore e quindi sono un po' di fretta mi sono guardato il video di presentazione di Sony che ovviamente non mi ha invitato a testare il prodotto cattiva cattiva Sony la prossima volta invitami vi invito come al solito a lasciarmi un commento a questo punto per farmi sapere che cosa ne pensate non vi dico di farmi domande su questa macchina perché non ce l'ho nessuno ce l'ha quindi non posso rispondervi vi invito a guardare il video di presentazione di Sony dove ci sono spiegazioni in inglese ma probabilmente anche più in dettaglio di quelle che vi ho potuto dare io durante questo breve video vi ricordo come sempre che se argomenti di questo tipo solleticano il vostro interesse il bottone iscriviti è qui sotto a voi non costa niente ma al canale date una grossa mano signori è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e vi do come sempre appuntamento al prossimo video ciao